ben ritrovati con la rassegna stampa in studio con voi rosario moreno recovery fund vertice notturno sulla nuova proposta l'italia 209 miliardi persi 3,4 miliardi di sussidi ma guadagnati 35 di prestiti michel dice sono fiducioso accordo è possibile intorno alle 19 il presidente del consiglio europeo ha annunciato la nuova offerta su cui si confronteranno i leader che prevede 390 miliardi di sussidi a fronte di 360 di prestiti la cifra che spetta l'italia nell'ultima bozza potrebbe ancora variare ma al momento è più alta di quanto previsto inizialmente dalla commissione crescono inoltre i rebate gli sconti per i paesi frugali quasi raddoppiano quelli dell'austria nel pomeriggio cauto ottimismo dei leader coronavirus risultati promettenti del dal vaccino di oxford forte risposta immunitaria si tratta di risultati preliminari riferiti alla fase 1 2 di sperimentazione coinvolto 1.077 adulti sani 35 anni di età media per settembre si attendono i risultati della fase 3 poi si potrà si potrà portare tutta la produzione alla distribuzione coronavirus francia tra i 400 e 500 focolai a cuba primo giorno senza contagi india teme 2 milioni di infetti entro agosto superati 14,5 milioni di casi nel mondo il regno unito si assicura 90 milioni di dosi di vaccino dei primi otto paesi più colpiti dal covid la metà sono in america latina latina come brasile con 2 milioni di casi perù messico che conta più morti dell'italia e il cile coronavirus arcuri pubblica bando europeo per l'acquisto di 3 milioni di banchi per le scuole la gara indetta per l'avvio dell'anno scolastico che partirà il 14 settembre scade il 30 luglio i contratti dovranno essere firmati entro il 7 agosto e l'azienda vincitrice dovrà consegnare i banchi entro il 31 agosto regionali PD spinge per patto antidestra con movimento 5 stelle caso Marche nasce lista civica dei consiglieri 5 stelle per il centro-sinistra contro l'immobilismo appunto si chiama gli accordi per le prossime consultazioni elettorali sono già chiuse ma i dem sperano di poter riaprire le trattative ipotesi sulla quale punta zingaretti ma che non dispiace a conte e potrebbe vedere l'intervento di grillo i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per le Marche ma anche per la Puglia notizie da Napoli e dalla Campania Napoli shock bus dell'ANM incastrato al volante c'era un minorenne in una sera del weekend un bus dell'ANM è stato affidato nelle mani di un ragazzo la denuncia esplicita nelle foto e nei video registrati dagli sconcertati automobilisti che hanno assistito alla scena è entrato in possesso il consigliere regionale Francesco Borrelli che ha immediatamente mandato una richiesta di chiarimenti all'azienda del trasporto pubblico napoletano per capire cosa si è successo e come si sia potuto verificare un episodio del genere. Coronavirus a Napoli due nuovi ricoveri e 13 denunciati al campo Roma di Scampia è trascorso una settimana dal primo caso covid individuato nel campo Roma di Secondigliano dove oggi altri due abitanti hanno manifestato sintomi per cui è stato necessario il ricovero ospedaliero. Si tratta del marito della 17enne Roma incinta che dal 13 luglio è assistita al policlinico federiciano e della madre della minorenne considerata il paziente zero. Entrambi i parenti della ragazza hanno cominciato a manifestare febbre e dispnea per cui sono stati trasferiti all'ospedale Cotunio dove i medici hanno riscontrato anche un'infezione da tubercolosi nella donna. Il campo sulla circunvalazione esterna non è stato mai chiuso ma con il trascorrere dei giorni iniziano ad emergere difficoltà e malcontento. Notizie dalla Puglia. Denunciato un uomo a Bari sorpreso a trasportare seppie e minaccia con due coltelli gli agenti della locale. Minacce aggravate al pubblico ufficiale porto il giustificato di coltello. Sono i reati per cui è stato denunciato un uomo sorpreso dagli agenti della locale sul lungomare barese mentre era intento a trasportare diversi chili di seppie con l'acqua di mare raccolta dallo specchio d'acqua antistante la città vecchia per poi tagliarle e stendendole sugli scogli e sul parapetto del lungomare. Alla diffida degli agenti l'uomo ha risposto minacciandoli e brandendo i coltelli che aveva con sé. Presentata la Fiera del Levante 2020 in programma dal 3 all'11 ottobre. La Fiera del Levante ci sarà anche per il 2020 nonostante l'emergenza Covid-19. L'84esima edizione della campionaria a Baresi in programma dal 3 all'11 ottobre è stata presentata assieme alle novità che la contraddistingueranno tra cui le misure anticontagio. Notizie da Treviso e dal Veneto. Rissa Conegliano arrestato un 23enne con l'accusa di tentato omicidio. Gli uomini della squadra mobile del commissariato di Conegliano sono risaliti a lui dopo 48 ore di indagine grazie anche alle testimonianze raccolte tra i presenti. Prosecco, docce, prezzi giù e produttori in rivolta pagato come doc. Così si chiude. Tutti hanno detto la denuncia dei viticoltori che dicono siamo scesi a 1,70 euro al litro. Nardi dice rafforzare la denominazione ma senza contrasti. Cluster di Covid-19 a Maser ricoverata alla Badant. Le condizioni della 58enne Moldava si sono aggravate. Appunto ieri e nessun nuovo caso di positivo al Covid-19 dopo giorni. Aggressioni a Cornuda. Il 63enne si aggrava e torna in coma farmacologico. Nel fine settimana i medici avevano provato a risvegliarlo bloccando la sedazione ma dopo poche ore le sue condizioni si sono nuovamente riaggravate. Buffet irregolare. Sunset chiuso. Denunciato il titolare. Intervento della polizia locale presso il ristorante lo scorso 10 luglio su segnalazione di alcuni clienti. Era scattata la chiusura per 5 giorni del locale che però non era stata rispettata. Il ristoratore Andrea Zawin si scaglia contro polizia locale comune dice siete ridicoli non riapro più. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. L'imprenditore friulano scompare in Slovacchia è un giallo. Loris Colusso originario di San Michele al Tagliamento da quasi 30 anni opera a Bratislava con una società di servizi e un giornale web. Un imprenditore friulano di 67 anni Loris Colusso è scomparso in Slovacchia originario di San Michele al Tagliamento e da molti anni si è trasferito a Bratislava dove ha creato una società di servizi contabili e fiscali per imprese italiane impegnate in quel paese. Inoltre nel 2009 ha fondato il giornale online Buongiorno Slovacchia, l'unico sito di informazione su cronaca politica ed economica slovacca in lingua italiana. Fedriga chiede di dichiarare l'ex caserma caverzareani zona rossa alla luce dei casi positivi individuati tra i migranti, bisogna prevenire la diffusione dei contagi, dichiarare l'ex caserma caverzareani zona rossa per contenere fin da subito e con la massima efficacia la diffusione dei contagi. Lo chiede il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla luce dei tre casi positivi individuati tra i migranti ospitati nella struttura udinese. Travolge un ciclista e finisce contro i tavolini del locale, incidente del primo pomeriggio a Udine, nella zona di Largo delle Grazie. Ferito in modo serio l'uomo in bici, incidente del primo pomeriggio intorno alle 15 nella zona di Largo delle Grazie a Udine. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, un uomo di 80 anni ha perso il controllo dell'auto in curva e un ciclista di 48 anni è stato travolto. È grave ma non in pericolo di vita. La vettura è poi finita contro i tavolini esterni di un locale. Udine sotto le stelle conquista anche Borgo Grazzano. Franz dice ora guardiamo iniziative analoghe che provengono dalle periferie. In un solo mese Udine sotto le stelle si è dimostrata capace non solo di attirare in città migliaia di persone ma di crescere rapidamente con l'allargamento a Via Vittorio Veneto e a partire da questo sabato a Via Grazzano, a dimostrazione di quanto questa manifestazione si è apprezzata dagli esercenti della nostra città. Lo dichiara appunto l'assessore al turismo e ai grandi eventi Maurizio Franz. Tamponamento a catene ad Aviano. Coinvolte tre auto e quattro persone nello scontro lungo via Pordenone. Il tamponamento appunto a catene, tamponamento nella tarda mattinata poco dopo le 12.30 lungo via Pordenone al chilometro 5 in comune di Aviano. Tre le auto coinvolte nell'incidente. Sul posto la prima partenza dei vigili del fuoco di Pordenone che ha collaborato con il personale sanitario nel prestare le prime cure alle quattro persone coinvolte per poi procedere alla messa in sicurezza dei mezzi. Le cause del tamponamento sono al vaglio dei carabinieri di Pordenone. Bene cari amici con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa e studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.